Il biscotto alla birra, lo sciroppo alla propoli e al miele e la salsiccia di capra per chi non vuole cedere con i grassi animali. C'è anche la piattaforma digitale per gli acquisti dallo smartphone consegnati su due ruote e la fattoria etica che impegna diversamente abili o il vivaio per combattere la depressione. L'agricoltura del futuro in Abruzzo passa per gli Oscar Green 2018 di Coldiretti, il concorso sull'innovazione promosso dalla sezione Giovani Impresa della Coldiretti regionale che ha premiato sei imprenditori con meno di 40 anni. È una bella emozione perché noi ci sentiamo molto importanti, ci sentiamo diciamo il centro dell'attenzione. Chi vi viene a trovare a Ruvala Bileandia cosa trova? Trova tre fattori, il primo la bellezza del posto, il secondo immerso nel verde, il terzo il mangiare. È vero, si mangia bene, come dice il nostro coordinatore si mangia da bio, ed è proprio un insegnamento anche per le attività future e per il benessere sociale della collettività. Tema della giornata di premiazione, il valore etico del Made in Italy. Il cibo è un qualche cosa che racchiude in sé un modo di fare, un modo di pensare, una tradizione. Allo stesso tempo non si può neanche un po' e neanche minimamente pensare che si possa produrre un alimento di qualità senza etica.